Ben a tutti ragazzi, siamo qui da SplinkoLeone con Luca4884 e specie blacoide Lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video Bene, oggi vedremo volare due nabbi Nel senso, vedremo come diventare pro, nel senso Da nabbi a pro Da uno che non sa fare praticamente niente A uno che sa fare building a 100% per power, 360 gradi e poi headshot Con lo spasso e 200 Vabbè, forse è un po' troppo però, vedremo Vi attaccano? Vi stanno attaccando? Vi stanno attaccando? Vi stanno attaccando? Luca è attaccato da io, il nemico Luca si deve proteggere Cosa fai Luca per proteggerti quando ti attaccano? Prima cosa Capire da dove ti attaccano Ok? La prima cosa da fare è capire da dove ti attaccano Quella lì è la cosa più importante Perché se non capisci da dove ti attaccano Te ti copri davanti E ti sturano da dietro Capisci? C'è placcoide Vieni Tac Prendi questo Adesso guardate Come mi proteggo io Vai solo alla montagna Io sto camminando Sto camminando Faccio un giro tondo Ta 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 Magari faccio un balletto Magari sono qui E sento sparare Ecco perché Vi ho detto di mettere Vi ho detto di mettere Ferma, 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 ferma Vi ho detto di mettere Il cerchio sonoro Quello lì Che ti fa vedere I suoni visivi Così capite benissimo Da dove vi sparano E appena Spara, spara E aspe... Dai spara E appena Saprete da dove Vi stanno sparando Vi girate E andate in posizione Come si dice? Ah, ferma, ferma Andate in posizione Ehm Di 90 gradi Cioè Puntate con il puntatore Da dove vi stanno sparando Vi dovrete trovare Il segnetto giallo Sopra il puntatore Vai Prova a sparare Ecco Così capirete Da dove vi sparano Per la protezione Io vi consiglio Ehm Scala muro Niente di che Oppure se anche Se volete proprio proprio Anche Tettuccio E così Qui vi consiglio Di lasciare aperto Perché così potrete sparare Luca smettila Potrete sparare Chi vi spara Puoi smetterla E non spaccare niente Grazie Eh lo so Dai C'è bisogno di crescere Grazie Il giocatore Non penserà A tutte e due Ma penserà Soltanto Prima a laserare Uno di voi Mettendovi Con la vita Almeno possibile Cioè nel senso Riducendovi la vita Almeno A Mi sto un attimo in carburato Riducendovi la vita A pochissimo A pochi hp Punti health E poi penseranno A vostro compagno Così che voi Vi curate Però Per curarsi C'è bisogno C'è bisogno Del tempo Quindi In quel tempo Che voi vi curate E non potrete Pensare A vostro compagno L'avversario Ucciderà Il vostro compagno Poi vi sarete curati E vi ucciderai E vi ucciderà Perché Ha una presa Di posizione Che è sopra La struttura E sa Dove sei Quindi Chi vi ha detto Di costruire Chi vi ha detto Di costruire Esci subito Da lì Andate qui E quando Sentite sparare Dovete Spiazzarmi Una Scala muro Immediatamente Andate qui Andate qui Non Qui Ok Se vi colpisco C'è Nel senso Se sentite sparare Dovete Mettere la scala O il muro Immediatamente Da dove sto sparando Ok Io sarò in giro Girerò Attorno a voi Così non saprete mai Da dove sarò Sarò Per Sarò Per sparare Ok Non volare Grazie Vai dove c'è niente Perfetto Attenzione Vi stanno sparando Ecco Special Placoide E' stata Quella Migliore Qui da Spring Leone Per oggi E' Tutto Iscrivetevi Lasciate un like E ciao